Magari anche un po' sofferta non a zero, oppure non è stato così? No, è stata una vittoria sofferta e come ha dichiarato poi la verità dell'intervista che ha fatto a Luca Quilante, sicuramente col cuore. E' già la seconda domenica visto quello che poi era successo precedentemente in nostra società. I ragazzi hanno fatto un buon primo tempo, il secondo si sono un po' seduti, però vista da fuori la partita era una squadra molto unita e si vedeva che non volevano mollare, cioè volevano quella vittoria e effettivamente non l'ha affamice, non l'ha perso. E' un grande bottiere anche, anche c'è da dire che ecco, forse le immagini, questi sono dei miei video che mi tratto tremano, però... Tremano benissimo. ...e devo dire che ce l'ha messa tutta Jack al secondo cuore, infatti gli ho anche detto Jack e Giacobianchi, per lui Jack, aveva preso il gusto a segnare. Abbiamo poi l'intervista tra l'altro anche con lui che abbiamo... Sì, era recuperato. Sì, esatto, però sofferta. Certo, una vittoria comunque importante. Noi adesso andremo fra breve anche a vedere le immagini della partita che si è giocata, la partita plus, così possiamo dire, tra Verbano.